Il libro si intitola La bugiarda, sembrerebbe quasi una sorta di ossimoro rispetto poi al contenuto, alle cose che racconta, dando per scontato chiaramente che siano tutte vere, visto che insomma ci dici che siano tutte vere. Per quale motivo ho intitolato La bugiarda, anche se in realtà credo sia stato un po' una specie di aggettivo che ti è stato più volte rivolto in occasione, soprattutto di quell'esordio? Sì, infatti è un titolo che ho scelto per diversi motivi, intanto appunto perché sono sempre stata accusata di essere bugiarda, nonostante poi abbia sempre cercato di mettere nelle cose che faccio la mia autenticità, la mia verità, che non per forza deve coincidere con l'autobiografismo, cioè quello che ho sempre provato a spiegare, spero che questo libro finalmente lo dica apertamente, che la verità, l'autenticità di un autore, di qualunque persona mette in gioco se stesso per raccontare qualcosa di sé e degli altri, non è importante che sia autobiografico per rappresentare la verità, l'importante è che ci sia un riconoscimento dell'autore con sé stesso, cioè un autore che non perde sé stesso, è un autore che racconta la verità e questo credo che sia fondamentale in qualsiasi opera, anche in un'opera di fantascienza. Nella bugiarda c'è moltissimo la figura della madre, di tua mamma, sembra quasi un libro scritto per lei. Ma devo dire che quasi tutti i miei libri li ho scritti per lei, anche Cento Colpi era un libro sulla madre, nonostante poi la gente abbia pensato che fosse un libro erotico, per me non era affatto erotico, anzi se c'era dell'erotismo era proprio questa esigenza da parte della protagonista di trovare una relazione con qualcosa di più profondo, in questo caso appunto la madre. Sicuramente la madre è la protagonista di questo romanzo, la mamma, il materno, come è sempre stato per gli altri miei libri, perché effettivamente è una figura per me molto conflittuale, insomma che mi ha sempre messo molto in conflitto con me stessa, con gli altri, quindi ovviamente ne parlo per analizzarla in qualche modo. Tra gli episodi che racconti ce ne sono molti, uno in particolare riguarda Maurizio Costanzo che da una parte in un primo momento, in un primo incontro, in una sua prima trasmissione è stato quello che in qualche modo ha lanciato un po' il volano e ti ha fatto esplodere un po' il casino di scappi, poi a distanza di tempo lo ritroviamo un po' in una sorta di trappola in cui ecco della bugiarda ti viene dato proprio in diretta, non so se dallo stesso Costanzo o da alcuni ospiti che erano stati messi appositamente all'interno di quella trasmissione. Da come racconto un po' quell'episodio, quel secondo episodio è stato un momento, so, tosto. Sì è stato tosto, meno male che mi è accaduto quando avevo 17 anni, avevo molto più coraggio di quanto me ne possa avere adesso, oggi forse se ne è scappata, se ne è messa a piangere, non lo so cosa avrei fatto, però a 17 anni semplicemente non mi toccava, cioè una cosa che io ho sempre sentito è che, allora tutti noi ci scontriamo sempre con i pregiudizi degli altri, ovviamente, ovviamente poi quando sei un personaggio pubblico ti scontri ancora di più con i pregiudizi degli altri, perché per forza di cose, quello che io ho sempre sentito è che il pregiudizio dell'altro non mi apparteneva, nel senso che tu puoi dire di me tutto quello che ti pare, però se io non sento di essere quella cosa lì, quell'immagine che tu ti sei creato di me, non mi tocca, non mi sconvolge. Quindi Costanzo in quell'occasione, insieme alla sua corte, cercarono in tutti i modi di farmi crollare, dicendomi prima appunto che ero una poco di buono, che quello che facevo, che scrivo nel libro, non si doveva fare, perché era moralmente sbagliato, eticamente non giusto, quando capirono che quella cosa lì proprio non mi fregava niente, perché per me era giusto, quindi non volevo pentirmi, insomma non volevo fare la Claudia Coll della situazione, e cercano di farmi crollare dicendo ok allora non hai scritto tu il libro, sei una bugiarda, tu sei un'attrice che presta il volto. E lì mi sono molto arrabbiata, perché invece la paternità di quello che avevo fatto per me era fondamentale, che fosse riconosciuta.